Sono la maestra Elena e vorrei presentare la mia coreografia su un ballo Bollywood. Inizio a spiegare un po' la tecnica. Partiamo con un passo meneito. Faremo da 1 a 4 sulla nostra sinistra. 1 e 2. Adesso con un quarto di giro a sinistra vado a fare 3 e 4. 3 e 4. 5 e 6. Ancora un quarto a sinistra. 7 e 8. 1 e 2. Ancora un quarto a sinistra. 3 e 4. 5 e 6. E ancora un quarto a sinistra. Qui facciamo un passo in diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Usiamo la gamba destra per fare lo stesso passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso facciamo dei saltelli a sinistra e a destra. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Adesso andiamo a fare un meneito in avanti e girando al mezzo giro continuiamo in avanti. Quindi, cominciamo da sinistra. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Giro. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Nel tornare indietro facciamo una volta girandoci con 8 step. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. E da qui facciamo un passo saltellato sulla nostra destra mettendo il piede sinistro davanti al piede destro. Quindi, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. E ripartiamo con una volta girando. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Per riprendere con il meneito iniziale. 1 e 2, stop. Pantale. 1 e 2, 1 e 3, 4, 6 e 6, 8, 6 e 8. E ripartiamo su 잡아pl vitalmente a per la guerra. Per gli città inghiltero io guarda la niente Per gli città in effetti Sono fosse fosse... ... ... ... Alleen a darlin' Quattro allowing star Alleen a darlin' Geoعل Alleen a darlin' Alleen a darlin' Da, la, la Da, la, la Da, la, la Grazie a tutti.